benvenuti in questa serie di video vedremo come realizzare un mobile parametrico utilizzando i geometry node di blender illustro qui brevemente come funziona il mobile parametrico utilizzando i valori che sono qui sul lato destro della geometry node per esempio è possibile aumentare o diminuire lo spessore dei fianchi ovviamente la larghezza del modulo similmente l'altezza e la profondità quindi passiamo anche al numero dei ripiani possiamo distribuirli equamente aumentando diminuendo il numero è possibile dare uno spessore ai piani che è diverso da quello dei fianchi quindi è possibile diciamo aumentare o diminuire lo spessore dei ripiani di fianchi indipendentemente e cambiare anche il tipo il tipo 1 e quello relativo ai cassetti poi c'è il tipo 2 e l'anta singola il tipo 3 le due ante il tipo 0 invece sarà esclusivamente quello dei ripiani giorno vediamo che con questo è possibile aumentare o diminuire l'altezza dei singoli frontali del dei cassetti lo stesso dicasi per la larghezza se vogliamo aumentarla o diminuirla per avvicinarla di più ai fianchi del del modulo possiamo intervenire anche sull'anta in questo caso l'anta singola riducendo per esempio dal basso la dimensione dell'anta possiamo però ridurre la dimensione dell'anta anche partendo dall'alto questo in caso volessimo avere un mobile con divani a giorno sopra e sotto le ante questo è il caso di due ante riposizioniamo lanta in modo originale vediamo che è possibile anche aumentare o diminuire lo spessore del frontale quindi sia dell'anta che dei cassetti provvediamo a ridurre un attimo la dimensione dello spessore dei cassetti inoltre è anche possibile ovviamente togliere o aggiungere una schiena sul retro del del modulo mobile secondo se vogliamo avere per esempio una zona giorno con o senza schiena e inoltre è anche possibile aggiungere o togliere un top è possibile dargli anche uno spessore diverso da quello dei fianchi dei ripiani in più è stato previsto anche un parametro per aumentare o diminuire la sporgenza del top rispetto per esempio al frontale questo è il mobile parametrico che si intende realizzare utilizzando i geometri notes di blender con questo il video si conclude si ringrazia per la visione e arrivederci